se ci pensate è un po limitante pensare che le bollicine siano solo per le celebrazioni d'accordo è bello brindare nei momenti di festa però uno spumante buono è adattissimo in tutte le occasioni e con tutti gli abbinamenti pensate anche una cena fra amici un bel piatto di affettati quanti di mortadella non c'è bisogno delle ostriche per gustare le bollicine e anzi vi dirò di più che vi dite di un picnic un po particolare d'accordo ci saranno acqua bibite per i bambini però magari con qualche torta salata qualche focaccia speciale un bicchiere di bollicine è l'ideale in questo caso il bicchiere va di vetro ma senza stelo perché dobbiamo essere semplici grazie a tutti